Nel dramma che ha colpito i cristiani in Iraq e Siria, perseguitati e costretti a fuggire per l'avanzata del sedicente Stato islamico, sembra che il mondo abbia avuto un sussulto di coscienza e abbia aperto gli occhi rendendosi conto della presenza millenaria dei cristiani nel Medio Oriente. Parole di Papa Francesco ricevendo i partecipanti all'88esima Assemblea Plenaria della Roaco, la riunione delle organizzazioni che aiutano concretamente le chiese orientali cattoliche. Si sono moltiplicate, ha aggiunto il Papa, iniziative di sensibilizzazione e di aiuto per i cristiani di Iraq e Siria e per tutti gli altri innocenti ingiustamente colpiti dalla violenza. Ci sarebbe da compiere un ulteriore sforzo per eliminare quelli che appaiono come taciti accordi per i quali la vita di migliaia e migliaia di famiglie, donne, uomini, bambini, anziani, sulla bilancia degli interessi, sembra pensare meno del petrolio e delle armi, e meno si proclama la pace e la giustizia, si tolera che i trafficanti di morte agiscano in quelle terre. Vi incoraggio, pertanto, mentre perseguite il servizio della carità cristiana, a denunciare ciò che calpesta la dignità dell'uomo. Perché, ha detto il Papa, la terra di quelle regioni è solcata dai passi di quanti cercano rifugio e irrigata dal sangue di tanti uomini e donne, tra i quali numerosi cristiani perseguitati a causa della loro fede. Vanno aiutate, ha concluso Papa Francesco, anche le comunità cristiane di Etiopia e Eritrea, perché possono offrire, soprattutto ai giovani, un orizzonte di speranza e di crescita, e arrestare così il flusso migratorio di tanti verso le coste del Mediterraneo, a rischio della vita.